non fa niente funzioneranno funzioneranno questo ragazzi è il bello e del dei componenti ha stato solito ha preso una bella botta ragazzi ma non c'è problema se fosse stato una bobbina se fosse stato un relai sotto plastica sotto vetro i contatti meccanici che si muovono poteva anche succedere che avevo rotto il componente ma con queste che sono stato solito non tanto semplicemente le rompi parentesi comunque andiamo con un altro video vai sigla ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video io sono fox ragazzi oggi un altro video molto interessante impianto fotovoltaico professionale super mega economico si ragazzi perché i componenti di un impianto che si rispetti devono essere scelti con tutti i con tutte le dovute attenzioni ma quanto può essere davvero economico un impianto solare fotovoltaico ragazzi il costo l'investimento di un impianto dipende da ciò che ognuno vuole se tu dici ragazzi io ho un appartamento piccolino faccio poco consumo mensile non ho un grandissimo budget meno spendo meglio è e allora è normale che si deve andare a scegliere prodotti più economici qui vedi dei prodotti dei componenti di un impianto fotovoltaico che si rispetti bene questi sono uno e due inverter da 5.000 e 6 questo è un inverter da 5.500 ragazzi cosa ti rimbalza nell'orecchio cosa ti rimbalza 5.600 5.500 tu mi dirai fox ma 5.000 ma che cosa sono questi 5.000 ragazzi questa è la potenza massima che l'inverter può accettare dai pannelli dalla stringa di pannelli è in più che potrebbe dare in uscita dalla AC dalla corrente alternata cioè il tuo contatore è un 3 kilowatt questo è un 5 kilowatt questo è un 5 kilowatt e 6 quindi questi inverter presi da soli superano di gran lunga le prestazioni del tuo contatore perciò se tu hai problemi ad accendere il forno e il forno in contemporanea tranquillo con questi non avrai più problemi no perché 2.000 il forno 2.000 il forno 4.000 e che sono 4.000 ragazzi io nei miei giorni di test nelle mie prove anche nella vita quotidiana cioè è una cosa che ormai capita spesso e volentieri come picco massimo perché io in questo momento se non lo sai perché non mi conosci vai nel canale e troverai tutti i video del mio impianto io mi sono autocostruito il mio impianto solare fotovoltaico però ragazzi io ho voluto tra parentesi esagerare perché io ho montato due di questi 5 e 5 e 5 e 5 totale 11 kilowatt attenzione attenzione dopo che è successa la shakura che se non lo sai vai sempre nel canale troverai i video dedicati alla shakura per il momento questo è qui l'altro invece mi sta dando l'energia per registrare questo video io con 11 kilowatt ragazzi potevo permettermi di accendere qualsiasi cosa insieme a qualsiasi cosa forno, phon, piastra dei capelli capitava anche che ti posso dire la stufa elettrica sempre con un occhio di riguardo attenzione ma ragazzi con 11 kilowatt e una linea in uscita separata per bene come ce l'ho separata io io mi posso davvero permettere di andare oltre i 7 kilowatt senza nessun problema ragazzi senza nessuno e con questi che sono i fratelli minori di questi questi che già hanno qualcosa in più sia in ingresso dai vannelli che in uscita dall'inverter posso sicuramente arrivare anche a 8 perché questi due andranno connessi al posto di questi ok questi due hanno una potenza totale di quanto 5600 e 5600 quanto fa ragazzi ragazzi youtube se non sapete ha messo una nuova versione del sistema ok nella grafica trovate un cuore grazie quel grazie ok o super grazie ti permetterà di sostenere il tuo creator preferito perciò se vuoi clicca fammi una piccola donazione più o meno grande se ti ho aiutato se i miei video ti piacciono permettimi di andare avanti mi raccomando ci conto tantissimo in più martella like condividi se vuoi il video e se non sei iscritto ragazzi iscrivetevi 11 kilowatt e 2 ragazzi 11 kilowatt e 2 cioè tu mi stai dicendo fox ma cosa è cambiato poco si è cambiato poco ma ho guadagnato in funzionamento funzionalità funzionalità e sicurezza perché ragazzi perché questo qui ok mi comunicherà con questi ok a differenza del mio impianto originario che ammontava questa bms che è una 150 ampere con porta ru guard non era possibile comunicare con l'inverter anche perché questo inverter non ha la porta di comunicazione rs485 che è questo e questo anno perciò ragazzi come hai capito più spendi meglio è ma perché perché scegli prodotti buoni questi sono prodotti buoni valgono con un solo inverter ragazzi 5 kilowatt perciò tu mi puoi dire fox ma è troppo che me ne faccia a me mi basta 3 kilowatt esiste da 3 kilowatt certo che esiste ci sono gli stessi sotto in descrizione vi lascio comunque tutti i link sia di questo che di questo che di questo che di questo che anche di quelli più piccoli inverter da 3 kilowatt ragazzi esistono anche più grandi ci sono i 10 kilowatt come inverter ibrido 48 volt o i 6002 ibrido 48 volt perciò se tu vuoi risparmiare al massimo puoi valutare o puntare su questo uno di questo che già costa qualcosa in me di uno di questo perché questo diciamo che è uno degli ultimi ok e in uscita dalla casa povmr o prendere proprio completamente diverso inverter il 3000 perché c'è il 3500 perché c'è e però e giustamente tu mi dirai però fox ma non sono troppo limitato e sei troppo limitato è normale che un piccolo margine in più ci vuole sempre ma se tu sai che non andrai ad accendere in contemporanea forno phone riscaldamenti stufa elettrica se tu mantieni lo stesso comportamento che avevi prima con un contatore da 3 kilowatt allora si prendi quello però avrai gli stessi problemi anche quello ha un massimale vicino come il tuo contatore però cosa succede lì si arriva in protezione l'inverter si spegne l'inverter qui si staccava il contatore ma nel caso dell'inverter si potrebbe anche rischiare di danneggiare il mosfet perciò ritorniamo al punto di prima quanto può costare un fotovoltaico economico poco ragazzi poco i componenti base sono l'inverter sono le BMS e poi ci sono i pannelli solari ragazzi questi giustamente sono dei giocattoli niente a paragone con quelli che si montano negli appartamenti io personalmente ho dei mostri da un metro e qualcosa per un metro e ottanta tanta roba arrivano a produrre anche 400 circa watt cada uno ma io ragazzi ho costruito l'inseguitore solare ho dotato ai pannelli di una struttura mobile che mi aiuta in inverno ad avere sempre il massimo di efficienza e produzione ragazzi io ho iniziato col mio impianto in inverno in pieno inverno quando io producevo a manetta gli altri che conosco con gli impianti producevano zero o qualcosa meno di me però lì stiamo parlando anche di impianti molto più grossi come watt il mio impianto è circa 5600 5700 ok meno di 6 kg ho fatto comunque io ho amici che hanno impianti molto più grossi ma producevano meno del mio impianto se non l'hai visto vai sotto in descrizione guarda i video se vuoi studiare questo tema se sei alla ricerca del risparmio vero in bolletta anche perché ragazzi io ho risparmiato in bolletta sì le mie bollette bimestrali erano 600 euro circa c'è un video dedicato sempre qui nel canale l'ultima bolletta che mi è arrivata grazie all'oro ok è stata di 120 euro io sono arrivato a pagare la metà della la metà quasi ragazzi la metà della metà ma in inverno quando tutti erano allacciati alla rete anche io devo ammetterlo determinati giorni ho dovuto allacciare la rete ma perché perché due tre giorni consecutivi brutti il sole non ce la faceva ad uscire la produzione era bassa e l'acqua con lo scaldabagno si doveva mettere in moto e già solo quello in 1200 watt poi che fai non accendi il riscaldamento e che fai non accendi la stufetta e che fai non accendi la qualsiasi cosa certo se l'impianto non ce la fai quel giorno quelle ore due tre quattro ore al vi il contatore dalla TS e vai avanti con quello però ragazzi io nonostante tutto e grazie anche alla grande progettazione che c'è stata a monte sono riuscito in inverno ad abbattere quasi completamente la bolletta e anzi ti dirò di più il periodo di fatturazione di questa bolletta da 120 euro è iniziato giorno 1 io il mio impianto l'ho avviato giorno 16 questo sta a significare che materialmente H24 da giorno 1 da giorno 15 io ho avuto il contatore allacciato perciò in questa bolletta da 120 euro io ho avuto da pagare questi 15 giorni se io avesse allacciato l'impianto giorno 1 io ragazzi mi scommetto che la mia bolletta non superava i 80 euro non superava gli 80 euro con tutto quello che c'è tasse IVA porcate varie trasporto comunque poi lo sappiamo tutti ragazzi là dentro mettono l'impossibile comunque lasciamo stare perciò perciò impianto fotovoltaico economico sì è possibile le batterie è un altro punto vuoi spendere poco ok questi inverter non per forza devono lavorare con litioioni life più 4 lto grafene possono lavorare anche con batterie al piombo batterie al gel diciamo per fotovoltaico quelle in percentuale costano molto meno delle life più 4 delle piombo ma ragazzi spoiler a breve grazie a POV MR arriveranno ottime ottime offerte per quanto riguarda i gruppi di accumulo perché ragazzi questa casa produttrice non fa solo inverter ma fa anche batterie ma non batterie ragazzi normali fai powerwall sono box enormi 1 metro 80 ok pronti all'uso lo prendi lo fissi al muro esci due cavi li metti qui ciao invece io e tanti altri amanti dei fai da te abbiamo costruito la batteria da zero e quello è stato un vero casino tu mi dirai ma hai risparmiato e certo è normale in quel modo risparmi facendolo tu da zero ma pericoloso puoi vanificare le tue spese perché se sbagli la polarizzazione di una cella esplode tutto ti fai male e poi è un casino i bms che devi comprare extra tutti i cablaggi del bms e tutta la programmazione i cavi connettori extra i fusibili extra è un casino forse si risparmi senza l'ombra di dubbio ma ragazzi non è come prendere un box di questo metterlo al muro collegare due cavi forse tre con quello di comunicazione e ciao anzi e vi dirò di più proprio ieri parlando col manager di povmr mi ha inviato una foto in esclusiva forse mondiale stanno studiando e arriveranno presto degli inverter batteria cioè capiscimi inverter batteria perciò sono dei super mega colossi che includono in un corpo unico tutto ragazzi tu prendi questo colosso lo metti al muro tramite 6 7 tasselloni perché ovviamente pesano le batterie pesano l'inverter stesso pesa cioè stiamo parlando di oltre 200 kg di box ok simile a questo immaginalo molto più grande e che ha dentro sia inverter che regolatore di carica che batterie tutto tu devi solo gablare che cosa AC input AC output e pannelli solari stop stop tutto il resto fa da sé perché internamente ha tutto già connesso ovviamente costa non sa non so ancora quanto costa io ho visto una foto io ho sentito la sua spiegazione così a grandi linee poi voglio lanciare anche degli inverter in grid ragazzi a me quelli in grid non piacciono perché non hai la piena libertà come se fosse un off grid in grid è già una cosa differente e io infatti gli ho detto lascia stare per l'italia tanto e quanto evita vai avanti con questi che sono buoni vanno anche bene i power wall vanno anche bene i box tutto in uno vanno benissimo perché ti semplificano lo prendi lo monti due fili e sei pronto prestazioni alte garanzia qualità ragazzi più spendi meno spendi in futuro e più risparmi perché è normale che un impianto da 3 kilowatt non può fare non può avere le prestazioni di uno di 5 kilowatt di uno di 5 kilowatt e sei o ancora di uno di 11 kilowatt e passa perché due di questi in parallelo abbiamo detto che salgono a 11 kilowatt e passa perciò le prestazioni che può avere questo tu non potrai averle con un inverter più piccolino ma se giustamente ti accontenti e non necessiti di tutta questa potenza allora un impianto solare fotovoltaico economico puoi anche farlo ti lascio sotto in descrizione ragazzi link di tutto ciò che ti può servire valli a guardare parliamo di BMS parliamo di inverter parliamo anche di batterie parliamo di qualsiasi cosa attinga al mondo fotovoltaico off grid ragazzi se non sei iscritto iscriviti ciao belli e al prossimo video e un grazie a tutti se il mio lavoro ti piace se quello che faccio lo apprezzi una donazione ragazzi non ci sta male ti ringrazio in anticipo ciao belli a tutti e al prossimo video e al prossimo video e al prossimo video